Ton 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 canale di The YouTubers. Allora sono qui oggi per appunto comunicarvi che in questa comunicazione straordinaria che appunto The YouTubers andrà in ferie, andrà in ferie estive da oggi e riprenderemo le attività praticamente dal 17 agosto in poi perché comunque anche noi abbiamo una vita privata e dobbiamo appunto goderci le vacanze estive che finché si possono appunto fare le facciamo. Quindi niente, questo è l'annuncio che volevo farvi la comunicazione straordinaria e niente ci rivediamo dopo il 17 agosto.